E' rimasto in questo ritiro e a sorpresa l'ultimo giorno padre Gasparino fece una catechesi sul padre misericordioso e io avevo incontrato il Signore qualche mese prima nella mia stanza pregando il Padre Nostro e stringendo fra le mani un crocifisso mentre ero assalita dal maligno. Io fui liberata da Dio, fui liberata dal Signore invocandolo con un Padre Nostro e stringendo fra le mani il crocifisso. E quando il Signore mi liberò da questa forza che cercava di bloccarmi il corpo, stritolandomi, io respirai, quando il Signore mi liberò, una grande pace, un grande silenzio nel quale ho riposato. E quando io mi accorsi che non c'era più il maligno che mi disturbava, ma che il mio cuore piano piano trovava pace, perché ero spaventata, trovava pace e mi consolava questa pace e mi faceva ritornare a un livello profondo di benessere, perché questo io ho percepito della grazia di Dio, un profondo benessere, una quiete, una serenità, come se uno va al centro del proprio essere ed è lì che incontra l'amore di Dio. Intanto dedico questa testimonianza alla Vergine Maria. Mi sentite? Alla Vergine Maria, che è qui con noi. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Perché la mia vita è legata alla Vergine Maria grazie ai miei genitori. Quando mia mamma ha avuto un parto difficile, è stata fra la vita e la morte, pensando di non riuscire a farcela, era medico mamma e si accorse che era molto grave, allora disse alla Vergine Maria, se io non le posso fare da mamma, pensaci tu, questa maternità di Maria. E allora mia mamma, anziché quindi bestemmiare Dio, arrabbiarsi perché era mia figlia, ero accolta con amore dai miei genitori, anziché arrabbiarsi con Dio perché la sua situazione era precaria, di salute, invece fece un atto di fede, si preoccupava del mio futuro mamma. E questo è stato eccezionale perché la Vergine Maria mi ha presa in carico, mi ha fatto da mamma. Ecco, la mia mamma terrena non morì in quella occasione, anzi è rimasta in vita a lungo, tanto da pregare per la mia conversione per tanto tempo, quindi è avuto anche la gioia di vedere il mio ritorno a Dio, il mio ritorno alla famiglia, perché mi ero anche allontanata dalla famiglia. Quindi il Signore le ha concesso lunga vita, però è anche vero che mamma si alzò da quel letto molto segnata dalla malattia. Io sono stata cresciuta da una nonna materna non vedente, perché mamma stava spesso male, veniva spesso ricoverata in ospedale, ma aveva questa fede grande, per cui quando uscì dall'ospedale, la prima cosa che fece mi portò a Pompei, perché i miei erano devoti alla Madonna del Rosario, e quindi mi portò a Pompei e mi riaffidò alla Vergine Maria, anche se era sopravvissuta, ecco, però mi riaffidò con una consapevolezza diversa, con un'importanza diversa. Poi, siccome la sua salute, la salute di mia mamma era sempre un po' così precaria, ogni estate andavamo in vacanza in Francia, perché mamma voleva andare a Lourdes e ringraziare la Madonna di ogni anno che Dio le concedeva. Quindi io ricordo benissimo i flambeaux, la preghiera del Santo Rosario, il bagno nella vasca, quindi era un pellegrinaggio annuale, dove si andava sempre a ringraziare, questo è stato sempre molto forte nella mia famiglia, il senso di riconoscenza, di gratitudine a Dio. Poi, un altro aspetto che vi voglio dire, che mia mamma fece a Lourdes, un anno fece un sogno, sognò che la bimba sua si perdeva, ma noi eravamo due, eravamo in due sorelle. Io ero la più grande, poi dopo di me, mia mamma ebbe il coraggio di affrontare una seconda gravidanza, ma questa volta la affrontò tutta a letto, perché i medici le consigliavano, i colleghi, perché mamma era medico, i cardiologi le consigliavano di abortire, perché avrebbe messo a rischio di nuovo la sua vita, per via del cuore. Ma mamma invece fece una scelta diversa, da donna di fede, che era veramente credente, e disse, no, io porto avanti la gravidanza tutta a letto. Mia sorella nasce il 25 marzo, festa dell'annunciazione, questo per dirvi come veramente la Vergine Maria appartiene alla nostra famiglia, proprio come presenza. Dopo qualche giorno, ad aprile, muore mio nonno, il papà di mia mamma, perché stava medico anche lui, stava andando in farmacia a comprare delle medicine per mia mamma, attraversa la strada, una macchina lo falcia, non si ferma e mio nonno muore nel trasporto in ospedale. Quindi mamma non ha la gioia di allattare anche la sua seconda figlia, perché, sapete, quando c'è un grosso dolore, un grosso dispiacere, non si può allattare, il latte si avvelena. E quindi la nostra famiglia è stata sempre attraversata da momenti di difficoltà, momenti di sofferenza, momenti di prova, affrontati sempre con la fede. Quando io mi avvicino alla Vergine Maria, quando ero ragazzina, perché avevo visto alla scuola dove andavo, dalle suore, un film sulle apparizioni di Maria a Fatima. E per la prima volta io mi rendo conto che la Vergine Maria non è un santino, come lo potevo vedere, no, tra le mani di mia nonna. Non era una statua, era una donna. Mi colpì perché dava una missione importante a dei bambini. E io ero una bambina che non andò all'asilo per anche problemi di salute, perché tanto mia mamma era stata male durante il parto quanto io ero stata anche, diciamo, compromessa nella salute. E quindi per la mia fragilità io non andai all'asilo. Andai direttamente a cinque anni alla scuola primaria, al primo anno in un collegio inglese dove si parlava italiano e inglese insieme per dire che ho avuto un'infanzia breve. Sono sempre stata nel mondo degli adulti, soprattutto a contatto con mia nonna che non vedeva. E mia nonna, quando io ho cominciato ad avere cinque anni, capivo che era una donna che aveva bisogno di aiuto. Quindi questo vivere insieme voleva dire condividere le nostre forze. E questo per me è stato educativo, nel senso che io ero accanto a mia nonna per aiutarla come lei aiutava me. Così quando ho cominciato a camminare per strada con nonna ed era un pochino grandicella. Nonna, aspettati, apro la porta. Nonna, gli contavo i soldi quando facevamo la spesa. Guardavamo i film davanti alla tv. È così che è nato il mio desiderio di fare l'attrice, guardando i film, dove nonna sentiva solo le voci e io le raccontavo cosa vedevano i miei occhi. e lei mi spiegava il significato delle parole. Nonna, che vuol dire questo? Nonna, ma perché piange? Nonna, ma perché, che cos'è la morte? Perché uno dei film che io ricordo di aver visto era proprio anonimo veneziano. Vi ricordate? Qualcuno se lo ricorda? Una storia forte di malattia, di cancro. C'era la paura della morte, una storia d'amore segnata dalla malattia. Ma sapete, io ritrovavo tanto anche della storia mia familiare, i miei genitori. C'era sempre stata dentro di me questa domanda cos'è la sofferenza? Perché la sofferenza? Perché la malattia, figlia di medici, tanti che venivano a curarsi, poi mamma era pediatra, quindi tanti bambini anche. E quindi quella opportunità di fare domande era anche una possibilità per me di interrogarmi sul senso della vita. Precocemente ho cominciato a leggere Eric Fromm, Essere o Avere. C'è tutto un filo rosso nella mia vita, per cui quando ho incontrato il Signore è come se avesse rimesso a posto il puzzle della mia vita, i pezzi, no? Gli ha rimessi insieme, gli ha dato un disegno, un significato, un'armonia dentro tutto quello che potevano essere i desideri e i perché della mia vita. E questa è l'opera meravigliosa di Dio. Ha armonizzato le mie domande, ha armonizzato i miei talenti, anche i miei desideri, li ha accesi. Perché noi abbiamo bisogno del desiderio. Come il desiderio squarcia il cielo e raggiunge Dio, allo stesso modo anche noi abbiamo bisogno di una forza che ci spinge oltre noi stessi per fare qualcosa di bello nella vita, di forte, non egoistico, non chiuso dentro un cancelletto dove siamo recintati, no? ma spingerci fuori a largo ci deve essere un desiderio, un desiderio di senso, un desiderio di compiutezza. Allora, vi dico che, quindi, a cinque anni mi chiedevano che vuoi fare da grande? io dicevo l'attrice. Per me l'attrice era la possibilità di sperimentare la vita attraverso storie diverse, personaggi diversi. Quindi, a livello proprio anche di esperienza emozionale, le emozioni, provare emozioni. però, anche, è stato educativo per me vivere non solo per me stessa, fin da quando ero piccola, no? Ma preoccuparmi del bisogno dell'altro. Quando è iniziata la mia conversione, uno dei primi Natali, io l'ho passati al Cottolengo di Torino. Una storia lunga, però, sono arrivata al Cottolengo tramite un'amica modella che si era convertita qualche anno prima di me, che mi portò a Cuneo, da padre Gasparino, a fare un ritiro, dove partecipavano molti giovani ed era un deserto. Si stava in silenzio. Io ho una fame di silenzio. Perché è nel silenzio che posso parlare e ascoltare la presenza di Dio nella mia vita. Però quella fu la prima esperienza, no? Di silenzio. E lei mi portò a Cuneo e si stava una settimana. L'ultimo giorno c'era la confessione e poi si usciva dal silenzio e si faceva festa. E in questo silenzio si parlava solo quando si pregava. Oppure si facevano servizi. Cioè, chi si occupava del giardino, chi lavava i piatti, chi bagni. Cioè, servizi molto semplici per poter anche liberare il corpo, no? Dall'immobilità. E io ricordo che dopo il primo giorno dissi a questa mia amica Antonella, lei disse Antonella, guarda, non è per me. Questo, io vengo da un'altra vita, non è possibile, io non ci posso stare. La mattina ci si alzava presto, si faceva un rosario camminando, penitenziale, poi c'era la celebrazione delle Lodi, la Messa, poi c'era la colazione, le meditazioni, l'adorazione eucaristica, tutto, diciamo, senza parlare. E dissi ad Antonella, guarda, io vado via, non è per me questo. E in quel momento accade che sentiamo un botto, un rumore, forte, due macchine che si tamponano, non si poteva non guardare dalla finestra. E la ragazza scese dalla macchina e aggredì quel signore che l'aveva tamponata, ma con una, era una ragazza bella, elegante, ma con una forza, con una, come posso dire, aggressività, che non era proporzionata al danno. Era troppo aggressiva. E dal silenzio a quel, a quell'aggressione io la sentì amplificata e dissi dentro di me, io non voglio essere così. E allora scelsi di rimanere a questo ritiro perché scelsi di farmi aiutare da Dio con la sua grazia per cambiare. Fu quello il momento decisivo che mi spinse ad accettare la conversione fino in fondo. E rimasi in questo ritiro e a sorpresa l'ultimo giorno padre Gasparino fece una catechesi sul padre misericordioso e io avevo incontrato il Signore qualche mese prima nella mia stanza pregando il padre nostro e stringendo fra le mani un crocifisso mentre ero assalita dal maligno. Io fui liberata da Dio fui liberata dal Signore con invocandolo con un padre nostro e stringendo fra le mani il crocifisso e quando il Signore mi liberò da questa forza che cercava di bloccarmi il corpo stritolandomi io respirai quando il Signore mi liberò una grande pace un grande silenzio nel quale ho riposato e quando io mi accorsi che non c'era più il maligno che mi disturbava ma che il mio cuore piano piano trovava pace perché ero spaventata trovava pace e mi consolava questa pace e mi faceva ritornare a un livello profondo di benessere perché questo io ho percepito della grazia di Dio un profondo benessere una quiete una serenità come se uno va al centro del proprio essere ed è lì che incontra l'amore di Dio perché vi dico questo perché parlo così perché io scoprì quel giorno che portavo l'impronta di Dio dentro di me quando il maligno mi aveva aggredito mi aveva ordinato prima di odiare e io siccome stavo al telefono con la mia gente che era una donna grande di età di queste parti sapete era una famiglia nobile napoletana e lei era stata una delle prime donne nel cinema a svolgere il mestiere di agente cinematografica e allora Paola mi aveva preso a cuore e mi aveva così tra virgolette voluta molto bene passavamo le vacanze insieme ma anche discutevamo tanto perché lei era grande di età io ero piena di come posso dire di anche i giovani no come sono vogliono sperimentare con le loro forze no non vogliono ascoltare i grandi chi ha esperienza no voglio fare come dico io voglio anche se sbaglio però lo faccio io no questo io e allora discutevamo e quella volta avevamo discusso al telefono per una questione legata al lavoro e io le dissi no guarda si fa come dico io perché sono io che vado a lavorare sono io che sto 12 ore sul set voglio fare come dico io e quindi lei subì non era d'accordo subì la mia decisione io lo sentì perché il mio mestiere ascoltare non solo la mia voce ma quella degli altri e quindi capì che era rimasta male e questa voce del maligno mi disse invece di odiare mi ordinò di odiare e io in quel momento riposi no per me era impossibile odiare Paola perché Paola era qualcosa che mi ricordava mia nonna questa differenza di età questa relazione questo affetto fra due generazioni completamente diverse ma così il bisogno uno dell'altro e vi dico anche che io non sono capace di vivere la mia vita da sola io ho una diciamo un'associazione che ho fondato nel mio cammino di conversione che è dedicata proprio a Dio Padre e si chiama le opere del Padre dentro queste opere del Padre ci sono tante persone che ho incontrato negli anni con le testimonianze e sono diventati fratelli e sorelle con i quali fare il bene e questo prima in Africa adesso ancora in Africa ma non solo più solo in Africa ma anche in Italia e anche in diverse parti del mondo quando ci chiedono aiuto soprattutto per quello che riguarda la salute soprattutto per quello che riguarda curare le persone che non hanno la possibilità di curarsi perché è rimasta dentro di me questo essere figlia di medici dove la medicina può fare cose importanti restituire la salute a chi l'ha persa e a volte può salvare la vita quindi e queste però sono tutti frutti di semi che sono stati gettati nella mia vita fin dall'inizio questo vi voglio dire cioè questa abitudine a vivere la vita in tandem in relazione con poi è diventato frutto più abbondante no? relazioni più ampie e noi sappiamo dalle neuroscienze che il cervello più relazioni ha più si evolve più si evolve noi abbiamo bisogno di avere relazioni più relazioni quindi è un frutto di questo diciamo di queste basi che sono state gettate quando ero ragazzina ora vi dicevo che quindi quando mi è stato detto ordinato dal maligno di odiare per quanto io non fossi in grazia non frequentassi più la chiesa da più di vent'anni di getto ho risposto io sono fatta per amare questa è l'impronta di Dio che io ho scoperto dentro di me io sollecitata dalle forze del male dal maligno ho risposto affermando l'amore e siccome è stata una risposta di getto non ragionata nel senso io ritengo di essere arrivata al centro della mia esistenza con questa esperienza di lotta fra il male dove poi ha vinto il bene grazie a grazie all'intervento dello Spirito Santo dello Spirito di Dio che mi ha liberata dal male intanto chi mi ha suggerito di pregare il Padre Nostro perché io pregai il Padre Nostro per chiedere aiuto a Dio dove noi diciamo liberaci dal male ma io non frequentavo la chiesa da vent'anni come mi poteva venire in mente di pregare il Padre Nostro è stato proprio ispirato questo Padre Nostro e poi questo prendere il crocifisso fra le mani e stringerlo forte poi con il tempo ho capito che dovevo tutto a Gesù Cristo perché Gesù ha pagato per il nostro peccato e ha vinto la morte e quindi piano piano all'inizio la gratitudine è stata tutta rivolta a Dio Padre infatti quando partecipai a questo ritiro a Cuneo e Padre Gasparino parlava del Padre Nostro io avevo una un desiderio profondo di conoscere Dio di incontrare questo Padre che non aveva fatto i conti coi miei peccati ma invece mi aveva salvato dal male e mi aveva fatto stare bene quindi era una forza di amore positiva che si opponeva al male che invece mi aveva quasi spinta ad odiare quindi cioè cominciavo a distinguere la differenza e desideravo conoscere il Padre con il tempo il Signore mi ha tirato appunto in chiesa e partecipando alla Santa Messa ascoltando la parola di Dio ascoltando anche ciò che veniva detto nelle omelie piano 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 cominciato a stringere una relazione sempre più forte con Gesù Cristo e noi non arriviamo al Padre se non per mezzo del Figlio e quindi era la naturale percorso di conoscere approfondire il Padre ritornando in chiesa ritornando ai sacramenti ritornando a partecipare alla Santa Messa che devo dire io sono tornata prima alla Santa Messa all'ascolto della parola di Dio e poi sono arrivata alla confessione ma questo perché non conoscevo nessun sacerdote all'inizio è stato proprio Dio che mi ha presa in braccio e mi ha fatto fare i primi passi anche perché il maligno non aveva smesso di tormentarmi e quindi io avevo da combattere e Gesù combatteva per me quindi un giorno nella stanza entrò una nube bianca sempre nella mia camera da letto e questa nube bianca fredda io ho preso il crocifisso lo innalzai con fede questa volta perché cominciavo a capire no? a chi mi dovevo rivolgere a chi mi dovevo aggrappare e in quel momento Gesù ha operato perché il maligno è sparito sapete queste cose hanno costruito dentro di me una fede forte il ritiro mi ha portato a fare una scelta una scelta profonda di conversione nei comportamenti cioè di cominciare a veramente lasciarmi trasformare dalla grazia di Dio e con chi lottavo? Lottavo con il mio io con le mie abitudini che erano viziate e quindi con le abitudini viziate vi faccio un esempio come sono stata istruita allora avevo un grande amore per la Vergine Maria io vi ho interrotto la testimonianza sulla Vergine Maria ma la Vergine Maria mi ha accompagnato in tanti passaggi in tanti l'amore per la parola di Dio è arrivata vi ho detto rientro in chiesa allora ai primi tempi mi portava in chiesa una persona che la chiesa non la frequentava però io mi ero confidata con i miei problemi spirituali e lui mi portò per aiutarmi al santuario della rivelazione a Roma dove la Vergine Maria era apparsa ad un tramviere che era diventato protestante da cattolico e gli era apparsa con la Bibbia in mano per questo la Madonna della rivelazione e gli disse di non perseguitare la chiesa di rientrare nel santo vile e anche di diventare testimone della verità gli spiegò che il suo corpo l'assunzione che il suo corpo non poteva marcire e perché lui aveva anche scritto un sermone contro l'immacolata concezione non credeva che la Madonna fosse immacolata era molto agguerrito con il Papa e insomma lui cambiò vita ritornò a Dio con tutto il cuore rientrò nella chiesa cattolica e fondò addirittura una congregazione di suore pur essendo lui sposato con i bambini ma fondò le suore della rivelazione con questo vestito verde che portano perché la Madonna apparì vestita di bianco con una cinta rosa questa Bibbia in mano e un manto verde il manto verde rappresenta la paternità di Dio quindi questo signore che non sapeva mi portò nel posto giusto e tutti i sabati puntualmente io andavo al santuario della rivelazione e partecipavo nella grotta in questa piccola grotta alla santa messa e mi appassionai alla vergine della rivelazione portavo una gonna lunga c'erano tanti lumini per terra prese fuoco la mia gonna e una signora con il suo giacchino poverina mi batte il vestito per fermare le fiamme e io ero rimasta anche abbastanza colpita da questo evento perché non me l'aspettavo poi i tessuti sintetici prendono subito fuoco e le chiesi solo come si chiama signora e lei mi disse Maria allora ci sono tanti passaggi non posso parlare tutta la notte quindi devo andare un giorno ero in camera da letto che pregavo il rosario io il rosario l'ho imparato con i libretti perché io non lo sapevo dire il rosario non me lo ricordavo più quindi mi ero comprata il mio bel libretto e stavo facendo il rosario in camera mia se non che bussa la donna di servizio e mi dice che c'era al telefono la mia tata una donna che mi aveva cresciuto quindi che era anziana perché dopo mia nonna quando io ho cominciato a essere un pochino più grande i miei geritori lavoravano e quindi c'era una tata era la tata al telefono e io rispondo siccome c'era la porta con la voce alta e dico no adesso no no adesso no ma io perché ero presa dallo zelo per la preghiera ma di là dall'altro lato della porta questo grido è arrivato come un non mi interessa non mi va perché la donna aveva il cordeless in mano e quindi la tata sentì questo e a un certo punto io non riuscivo più andare avanti con la preghiera non riuscivo più a pregare allora mi sono diciamo fermata e sono andata a telefonare alla tata l'ho trovata in lacrime perché non mi vuoi più bene ho capito perché sono vecchia no sai tutte quelle cose e invece no non era così ma lei lo aveva sentito così Maria mi stava insegnando la carità come si amano gli altri no come ci si relaziona con gli altri ecco tante piccole cose e quando facevo i pellegrinaggi nei santuari sempre qualche cosa che mi raggiungeva in cui io capivo che cosa dovevo cambiare per piacere di più al Signore cioè un cammino di conversione che dura ancora oggi chiaramente no ma che è sostenuto dalla Vergine Maria e quindi anche oggi io le sono grata che mi ha fatto venire qui per poter godere con voi della sua presenza e delle grazie che sicuramente ci elargirà perché ci vuole bene nel 2005 vi dicevo che è nata l'Associazione Le Opere del Padre dedicata a Dio Padre con la spiritualità della Divina Misericordia perché la Divina Misericordia mi ha diciamo raggiunta quando tornata da un viaggio in Africa ero abbastanza confusa perché perché cominciavano i primi sì a Dio nei cambiamenti della conversione dei comportamenti delle scelte e però mi scontravo col mio ambiente i film che mi proponevano mi mettevano davanti a una scelta e fu una prova grande perché non era possibile dire di sì più al cinema perché mentre prima mi offrivano cose godibili da quando è iniziata la conversione è iniziata una battaglia micidiale cioè morì il produttore di Linda il Brigadiere che era un grande produttore e quello che mi venne offerto dopo non era più dello stesso livello anche il teatro morì il produttore teatrale erano grandi di età però fu per me un disastro io avevo con lui dei dei diciamo un un lungo percorso da fare insieme avevamo già scelto le opere teatrali da portare in teatro quindi avevamo già un lavoro progettato nel tempo fu un disastro lui morì e a me mi fu proposto proprio tutt'altro e facciamo un esempio così capite perché io non ho potuto accettare i copioni non perché io non volessi più lavorare o perché pensassi di essere diventata non so bigotta no no nemmeno no perché ero in cammino mi scontravo con tutte le mie fragilità non ho mai pensato di essere santa mi scontravo continuamente con la mia fragilità ma volevo essere fedele a Dio perché io mi ero scontrata con il male e quindi io non potevo fare 50 e 50 col male capite perché io conoscevo la cattiveria del male e conoscevo che ci si salva solo se ci si mette sotto sotto la protezione di Dio ma quindi bisogna rimanere fedeli quando Gesù dice il vostro parlare sia sì sì no no non ci sono compromessi sì è così e allora quindi quando mi arrivò tutto one me show che aveva fatto Madonna a New York sul sesso perché io ero a grandi livelli forse voi non l'immaginate ma a me mi arrivano i copioni che interpretavano gli attori importanti la Paltrow a Londra e la Paltrow aveva interpretato la storia di un rapporto con il suo papà che lei aveva da defunto era una medium parlava con il papà defunto e io non potevo fare questo spettacolo perché io mi ero scontrata con il maligno che si era nascosto dietro le vesti di un defunto che parlava quindi non potevo accettare tutto quello che mi veniva offerto era quasi uno sberleffo che mi veniva fatto era ma guardate anche adesso dopo che sono stata a Domenica Inn mi ha scritto un artista che fa delle esposizioni nei musei importanti e lui ha aveva questa idea e mi ha chiesto di dare la voce a questa sua allestimento volete sapere di che si trattava si trattava di due uno scambio di lettere fra due innamorati lei parlava di tutto lo schifo che viveva facendo l'assistenza alla mamma parliamo del fatto che si scoprirà alla fine che la mamma era demente ma comunque lei parla di tutto quello che può essere il peggio la mamma gli aveva vomitato addosso e c'era il sangue non c'era una parola d'amore non c'era una parola d'amore neanche per la mamma non c'era niente lei raccontava lo schifo del corpo che si decomponeva lui delle godurie perché era un cuoco raffinato uno chef delle godurie del palato non si incontravano mai e non si capivano e parlavano due lingue diverse questo era l'allestimento e io mi sono detta ma cosa porta questo che frutto porta è un esempio no perché un pubblico dovrebbe sopportare di ascoltare queste cose qui considerando anche come va la vita fuori nel mondo perché e quindi ho detto di no ho detto di no cioè ho anche una mia sensibilità per il bello ho insegno recitazione non ho mai smesso di credere nel mio mestiere insegno recitazione ho continuato a interpretare ma non a grandi diciamo in tv no nel grande pubblico ve ne dico un'altra così mi capite ero in africa in missione e mi occupavo quindi delle nostre opere in africa perché sosteniamo anche tanti bambini in difficoltà famiglie povere portiamo diciamo i casi che vanno operati perché diciamo i loco non possono essere operati quindi li portiamo in italia e quindi mi trovavo in africa mi chiama una produzione importante però mi chiama un agente importante a nome di questa produzione e mi offrono la coprotagonista in una fiction per diverse puntate per una rete importante allora dico non dico mai di noio perché mi voglio scontrare con il problema proprio perché non ho scelto io di non lavorare e allora dico mandatemi mandatemi i copioni tramite internet allora dicono non li abbiamo tutti perché non abbiamo ancora finito di scrivere però ti mandiamo quello che abbiamo quindi comincio a leggere la storia non è che mi sembrava eccezionale però era comunque un personaggio non negativo quindi ho detto vabbè ma si può fare perché no era innamorata del protagonista era sempre presente in tutte le scene però come una donna insignificante lui neanche la guardava c'era lei ma lui neanche la guardava lei era innamorata di lui e va bene poi quindi facciamo l'appuntamento vado a fare il colloquio per organizzare il giorno dopo eventualmente eventualmente un provino di capelli di look mi siedo e a un certo punto dico scusate ma c'era un file che non si è aperto lo posso leggere ed era il profilo del personaggio insomma questa qui era la preside di una scuola a questo l'avevo letto già che siccome l'era morta adesso non ricordo più un figlio o una figlia comunque per motivi sconosciuti lei imputava come responsabili della morte di questa creatura dei giovani e quindi scientificamente organizza l'omicidio di tutti questi ragazzi finisce la storia finisce la fiction dove lei dice io non importa che ho rovinato la mia vita l'importante è che ho rovinato la loro cioè quindi misericordia allora voi capite che io vado avanti per la mia strada non ho scelto io di non lavorare in tv eccetera ma Dio mi ha dato tanto di più mi ha dato il centuplo perché ha dato quell'armonia di senso di cui avevo bisogno e oggi la mia gioia è quella di aiutare gli altri a stare bene questa è la mia gioia più profonda quando io vedo che l'altro è consolato è rafforzato nella fede o aiutato materialmente nelle sue fatiche e difficoltà quindi è nata un'opera dentro le opere del padre a Roma dove noi sosteniamo le persone che vivono in strada quindi gli offriamo diciamo una possibilità di entrare in un centro dove si possono lavare far lavare i loro vestiti essere visitati da un medico avere la colazione il pranzo il vestito cambiato appunto la visita del medico adesso abbiamo anche uno psichiatra e per le famiglie disagiate oltre ad avere la possibilità del vestito delle diciamo della visita del medico hanno anche il pacco alimentare e poi diciamo noi cerchiamo di andare incontro a tutte le loro difficoltà per esempio i libri universitari per i figli le cose più impensabili entriamo a piede diritto e aiutiamo e questa opera è chiamata colomba express dopo vedrete un piccolo filmato perché è dedicata allo spirito santo cioè la colomba e lo spirito con un cuore rosso perché come Maria che quando capisce che va aiutata la cugina Elisabetta parte immediatamente e quindi l'amore vuol dire questo tra di noi la colomba l'amore express express cioè immediato e non rimandato e quindi è per me un'esperienza bellissima dal punto di vista umano durissima anche perché quando conosci le persone e sai che quella notte fa freddo a Roma piove addirotto tu sai esattamente che quella notte quelle persone non dormiranno sentiranno freddo ed è durissimo durissimo applausi e eh sì io dico che hai detto ecco io dico che è Gesù che ha scelto quindi devi percorrere questa strada quella strada non fa più per te te lo dico a cuore proprio mi viene dall'anima devi cambiare proprio tutto perché ogni cosa che tu hai detto ci sa sempre qualcosa che no quindi non è più quello per te te lo dico è questo e penso che tu l'hai capito molto bene no 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 e no è qui il problema perché quando mi chiesero di leggere le poesie di Giovanni Paolo II e io non avevo la formazione artistica fondata sulla parola avevo una formazione artistica fondata sulle emozioni perché a me interessava sperimentare vi ho detto le emozioni è per questo che Dio ha dato un'armonia grande alla mia vita allora io non mi diciamo facevo fiction dove dovevo mettere in gioco le mie emozioni eccetera ma non è che ero tanto formata sulla parola e quindi quando mi chiesero di leggere queste poesie dissi devo studiare perché sono poesie dense di filosofia c'è l'antropologia c'è la teologia io le devo capire per trasmetterle e allora andai davanti al Santissimo perché l'avevo imparato a ritiro a Cuneo che bisognava pregare in adorazione silenziosa davanti al Santissimo e quindi mi mettevo davanti al Santissimo cercando di capire e di farmi aiutare da Dio a capire come comunicare queste poesie perché il problema non è solo capire ma anche comunicare e vi devo dire che Dio mi ha insegnato a comunicare la parola faccio un esempio così mi capite per cui io penso di aver ricevuto un dono che però va messo a servizio chiaramente delle cose belle non delle cose Van Gogh che io ho studiato perché anche faccio diciamo ho fatto un percorso anche di formazione di counselor all'università perché ho fatto tante cose da quando ho incontrato il Signore ma Van Gogh diceva tutto quello che è bello e buono viene da Dio tutto quello che non è bello non è buono non viene da Dio ecco io ho capito questo che cioè la mia voce va messa a servizio di ciò che è bello e di ciò che è buono ciò che fa crescere gli altri quello che non fa crescere che non serve inutile non mi ci devo neanche mettere allora mi trovavo avevo letto le poesie di Giovanni Paolo secondo a Roma per i suoi festeggiamenti poi mi chiamano i padri Micheliti a San Michele Arcangelo e mi chiedono di leggere polacchi mi chiedono di leggere le poesie di Giovanni Paolo secondo e quindi io le avevo già lette ma vado a pregare nella grotta anche quella una grotta a San Michele Arcangelo prima della della lettura chiedo sempre a Dio anche prima di una testimonianza di guidare la mia lettura la mia interpretazione la mia testimonianza penso che questo sia fondamentale non contare sulle proprie capacità le proprie forze ma sullo spirito di Dio che sa di che cosa abbiamo bisogno allora comincio a leggere le poesie e le leggo in una maniera completamente diversa rispetto a Roma dico ma dentro di me ma perché non lo so erano piccole semplici come le potrebbe leggere una bimba e a un certo punto arriva una frase dove invece Giovanni Paolo dice che Abramo sperò contro ogni speranza e in quel momento io sentì una forza dentro un fuoco che mi diceva prima a me nel cuore e io lo comunicavo che Abramo sperò contro ogni speranza sentì questa forza e capì che quello interessava Dio perché Dio non è il Dio delle cose inutili delle cose apparenti delle vanità Dio dà sempre significato a tutto c'è sempre un senso in tutto quello che accade c'è una logica profonda e quindi a lui interessava far capire all'assemblea che doveva avere una fede più forte rocciosa la fede di Abramo che sperò contro ogni speranza e capì quindi mi insegnò che se io devo dare importanza a qualcosa tutto il resto deve essere più piccolo e deve andare 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 finché arriva quello che è importante quello rimane scritto nel cuore delle persone così Dio mi ha insegnato piano piano a interpretare le poesie interpretare testi non solo sacri ma anche per esempio le poesie di Aldamerini perché poi piano piano la tecnica l'ho messa a disposizione anche di quello che io ho sentito di profondamente umano profondamente umano denso di significato e quindi ho dato voce anche alla sofferenza laddove ho sentito che era una un qualcosa che poteva aiutare gli altri ecco a me interessa questo oggi essere a servizio della verità del bene della bontà per quello che io sono in grado di poter fare ho lavorato con i giovani insegnato recitazione in un'accademia di spettacolo finito e vi chiudo l'ultima in un'accademia di spettacolo invocando lo spirito santo lavoravamo invocando lo spirito santo fondata l'accademia sulla lettera agli artisti di Giovanni Paolo II dove lui parla dei momenti di grazia fondati proprio dall'opera dello spirito santo che guida l'artista che dovrebbe essere un profeta che fa vedere là dove gli altri non vedono illuminare oltre aprire uno squarcio e far vedere oltre quindi una grande missione agli artisti e per questo che io credo in un'arte che è di un altro livello ma c'è bisogno che il chicco di grano caduto in terra muore per portare frutto e quindi a me il Signore mi ha chiesto anche di morire tante volte dire tutti questi no sono state anche delle piccole morti perché io ho dovuto fare una scelta nella fede non sapendo dove mi stava portando Dio non avendo un'assicurazione sul futuro era solo una questione di fede e vi stavo dicendo che a un certo punto nel tempo io ho visto che i giovani erano sempre meno forti nella fede e nella preghiera che anzi proprio questo spirito santo si faceva fatica a farlo entrare dentro l'accademia stessa non avevano proprio ricevuto niente dalla famiglia e quindi avevo casi di ragazzi che cadevano in terra con gli attacchi di panico ragazzi che si tagliavano mi facevo la domanda ma io come li aiuto questi giovani perché quando poi lavoravamo con le emozioni lavoravamo con i personaggi che magari dovevano vivere un'emozione forte e entravano in crisi stavano male e non gestivano le loro emozioni il loro vissuto e quindi la suora la madre generale diciamo che è della congregazione che aveva fondato l'accademia mi diede un consiglio perché non ti iscrivi all'università c'è un corso per diventare cancellor ed è un corso particolare fondato sulla parola di Dio qui mi sono iscritta e anziché farmi tre anni me ne sono fatti cinque e poi sono diventata cancellor professionista adesso faccio anche questo come lavoro aiuto i giovani anche le persone più grandi di età a recuperare diciamo un loro benessere soprattutto lavoro sulle interruzioni di contatto cioè tutte quelle cose che si sono bloccate nella vita e che si sono diciamo inceppate ecco il cancellor aiuta a ripartire e quindi benedico il Signore perché ha dato una nuova spinta alla mia vita mi ha veramente cioè è una vita pesante è faticosa io oggi ho preso due caffè prima di arrivare qua perché mi si chiudevano gli occhi per la stanchezza però vi assicuro che è una vita piena allora Dio dà il centuplo su questa terra il centuplo e la vita è eterna vi faccio vedere la colomba express se l'hai trovato Leonardo ecco questo eh sì Leo colomba sì forse vanno abbassate un attimo le no questo non è questo è le opere del Padre nel segno della divina misericordia è un altro grazie Questo è il mio primo viaggio in Africa. C'era una grave carestia in Etiopia, i bambini morivano di fame e questa era una bambina perché, sapete, in Africa mangiano prima gli uomini, poi le donne, poi i bambini e per ultime le bambine. Quindi, soprattutto in questo campo organizzato dai missionari salesiani c'erano bambine che erano in queste condizioni e questo cambiò e diede anche questa una spinta forte ad andare all'essenziale, a distaccarmi dal benessere nel quale vivevo e a vivere pensando soprattutto ai bisogni e le necessità inizialmente dei bambini. Qui ancora non erano nate le opere del padre, fece esperienza di missione con i missionari salesiani e poi nacquero le opere del padre. Ecco, facciamo vedere altre due foto. Ecco, guardate questa bimba, guardate lo zigomo. Vedete che gli mancavano completamente le guance. Come stava? Non c'erano medici in quella zona. La suora chiedeva allo Spirito Santo come curare questi bambini e di che cosa avevano bisogno. Pregava che non c'erano medici in questa zona. Era la suora che pensava a tutto. Ecco, questi erano gli altri bimbi. Giusto per farvi capire ancora. Ecco, così arrivavano al campo, che non erano in grado neanche di essere vitali i bambini. Avevano la pancia gonfia, chiaramente. Allora questo mi... vedete, guardate il viso del bambino, della bambina. Com'erano, eh? Com'erano sofferenti. Questo chiaramente, ecco, veniva fatta questa sorta di zuppa con latte multivitaminico. E questi bimbi bevevano queste tazzine con questo latte multivitaminico. che però io ho visto bambine che non ce la facevano perché quando non assorbivano più, cioè quando bevevano, perdevano completamente tutto quello che introducevano. Ecco, questo fu la prima mia esperienza in Africa che mi cambiò profondamente la vita. Adesso, se volete, facciamo vedere la colomba, perché non vi posso far vedere tutte le foto. È una delle poche giornate in cui evidentemente bisogna mettersi all'opera per i poveri che non hanno più, diciamo, quello spazio per pregare insieme. Perché la misericordia, la carità è cambiata. Cosa vi ha costretti a fare il coronavirus? Ad amare di più. Quando io ho visto che si ristringeva l'orizzonte e che c'era poca possibilità, no? Non si poteva accedere all'Eucarestia, non si poteva partecipare alla Santa Mesa. All'inizio le chiese erano chiuse. Io ho detto, questo è il momento di amare di più. Questo è il momento di essere più fedeli di prima al Signore. E testimoniare con la propria vita l'adesione a Cristo. Quindi dare la propria vita per gli altri. Claudia, la misericordia in questo tempo così inspiegabile per certi aspetti. Che cosa, in realtà, come si manifesta? Amare di più va bene, eh? Eppure facciamo fatica a pensare che ci sia un Dio di misericordia dietro tutto questo. Certo che c'è un Dio di misericordia. Per esempio la forza che io sento dentro che mi spinge verso gli altri. Non è una forza mia. Questo lo sento benissimo. Perché io, come tutti gli altri, posso avere paura del contagio. Ho a casa un ragazzo che è trapiantato, un bambino piccolo che è stato operato al cuore. Quindi ho le mie preoccupazioni. Però c'è una forza che mi spinge. Che è la forza della fede. Va bene. Non c'è l'audio, non so perché. Comunque potete vedere. Questo è un tessuto africano. L'Africa fa parte. Questo era il tempo di Natale. Questo è il logo delle opere del Padre. Ecco la Vergine Maria. E sta spiegando, il Padre, sta spiegando, diciamo, come si svolge il nostro servizio. Questo è un dipinto fatto da un pittore povero che mi ha voluto donare come primo quadro il quadro di Padre Pio. Questi sono gli abiti che vengono, che lasciano dopo aver fatto la doccia, che vengono etichettati e vengono poi lavati e consegnati la settimana successiva. In cambio viene dato un cambio completo. A partire dalla biancheria intima fino a volte anche alle scarpe quando hanno bisogno di cambiarle. Il Padre ha svolto un servizio da noi, ha svolto un servizio da noi anche di confessione ai poveri, ai volontari. Questo è un signore che era venuto da me la prima volta chiedendomi aiuto, un architetto che però aveva perso, diciamo, il senso della sua vita. Si era smarrito e quindi mi chiedeva di essere aiutato e invece è entrato a far parte della nostra famiglia. Cioè voglio dirvi che dentro il gruppo dei volontari spesso ci sono anche persone che noi, diciamo, abbiamo aiutato. Ecco, ci teniamo sempre a creare un ambiente accogliente, un ambiente affettuoso, bello. Io mi batto per la bellezza perché è controllatoria, nel senso se uno entra in una doccia che comunque ha bei colori, un buon profumo, è chiaro che è più invogliato e si sente accolto con dignità. Eh, queste sono sempre le foto dell'Africa, no, no? Non c'è nessun altro video con la voce? No, 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 video colomba perché... Ah, ho capito. Vediamo un po' questo, se dà la voce. Eh, no, perché lei, vediamo se passa un po', se me lo scorre, vediamo perché... No, non c'è la voce comunque, no. No, no, può spegnere. Questo era durante il Covid. Durante il Covid siamo rimasti aperti e quindi Lucia di TV 2000 mi fece fare una testimonianza perché... Perché la cosa che mi colpì profondamente quando ci fu il lockdown, che furono chiusi i giardini, furono chiusi i bar e quindi i poveri non avevano capito niente. Io dovetti mettere un antoparlante con un collegamento, con un telefonino per fargli sentire cosa stava accadendo in Italia. Perché loro dicevano, ma anche questi sono impazziti, che succede, come mai? Quante storie abbiamo ospitato in questo studio di anime che si sono viste cambiate nel profondo proprio da questo amore. Una di queste è quella di Claudia Cole. Claudia, buongiorno. Eccoti. Buongiorno, Lucia. Dovevamo aspettare il coronavirus finalmente per vederti all'opera nella parrocchia dei Santi. Felicita e figli martiri, affidene. Quando è iniziata la tua giornata, Claudia, stamattina? A che ora? No, oggi è una giornata in cui si lavora a casa oppure qui, ma non ci sono i poveri. Quindi è la giornata più tranquilla della settimana. Ma è iniziata presto, con la messa del Santo Padre. Esatto, come capita ormai per tutti noi. Claudia, è una delle poche giornate in cui evidentemente bisogna mettersi all'opera per i poveri che non hanno più, diciamo, quello spazio per pregare insieme. Perché la misericordia, la carità è cambiata. Cosa vi ha costretti a fare il coronavirus? Ad amare di più. Quando io ho visto che si ristringeva l'orizzonte e che c'era poca possibilità, non si poteva accedere all'Eucarestia, non si poteva partecipare alla Santa Mesa, all'inizio le chiese erano chiuse. Io ho detto, questo è il momento di amare di più. Questo è il momento di essere più fedeli di prima al Signore e testimoniare con la propria vita l'adesione a Cristo. Quindi dare la propria vita per gli altri. Claudia, la misericordia in questo tempo così inspiegabile per certi aspetti, che cosa in realtà, come si manifesta? Amare di più va bene, eppure facciamo fatica a pensare che ci sia un Dio di misericordia dietro tutto questo. Certo che c'è un Dio di misericordia. Per esempio la forza che io sento dentro che mi spinge verso gli altri non è una forza mia. Questo lo sento benissimo, perché io, come tutti gli altri, posso avere paura del contagio. Ho a casa un ragazzo che è trapiantato, un bambino piccolo che è stato operato al cuore. Quindi ho le mie preoccupazioni, però c'è una forza che mi spinge, che è la forza della fede. Confido in Dio, confido nel suo amore. E sento di voler aiutare chi è smarrito, chi è sperduto, chi non ha un posto dove dormire e che si appoggia sul marciapiede, è marginato da tutti, ha bisogno di un pasto. I primi tempi arrivavano affamati la domenica e quindi ho capito che dovevamo aprire anche la domenica perché facevano fatica a spostarsi con i mezzi e quindi rimanevano quelli perlomeno della nostra zona senza mangiare. E quindi ho cominciato a scoprire che la colazione, noi davamo la colazione e il pranzo insieme, in un sacchetto da asporto, e mi sono accorta che alle 10 di mattina avevano già finito tutto, sia la colazione che il pranzo, perché avevano fame. E quindi ho detto bisogna amare di più, bisogna dare di più. Poi venivano con le scarpe rotte, i negozi... C'erano anche i guanti, perché all'epoca si usavano anche i guanti, vi ricordate? Ecco qua. Grazie. 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 Grazie.